Chiusura positiva per piazza affari, migliore in Europa con l'indice Fuzzi Mib che a fine giornata segna un più 3,17% e l'all share più 2,84%. Bene titoli bancari con intesa San Paolo che fa segnare un più 1,82, Unicredit più 2,33, negativa MPS meno 2,68%, positivi Fiat più 1,49, Finmeccanica più 0,62, Telecom più 0,87 e Eni più 0,93%. In calo lo spread BTP Bund a 162 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,82%. L'avvicendamento dalla Juventus tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non favorisce invece le azioni bianconere che hanno subito un calo dello 0,98%.